Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com Buongiorno a tutti e buona settimana, è la settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023. Vediamo subito quali sono le novità astrologiche di questa settimana. In realtà ce n'è solo una ed è Saturno che diventa retrogrado il 17, quindi sabato 17 giugno. Se mi seguite da un po' di tempo saprete ormai che i pianeti sembrano tornare indietro sui loro passi, anche se non è vero, loro continuano a seguire la loro orbita intorno al Sole, ma dal nostro punto di vista dalla Terra ci sono dei periodi durante l'anno in cui apparentemente il pianeta torna sui suoi passi e questo è il caso adesso di Saturno che è a 7 gradi del segno dei pesci e tornerà indietro fino a 0 gradi dei pesci, questo avverrà intorno a novembre quando poi ritornerà diretto, quindi ritornerà a effettuare il suo moto diretto. Quindi per il tipo di astrologia che seguo io, che è quella morpurghiana o dialettica, il moto retrogrado del pianeta non è così importante, non ha un significato di per sé, insomma, non viene attribuito un significato particolarmente esoterico come in certe altre scuole d'astrologia, però è importante perché ripercorre gli stessi gradi, per esempio Saturno rimane a lungo, quindi praticamente tutto quest'anno, nella prima decade dei pesci, questo ovviamente ha un'influenza, un'importanza su tutte le persone che hanno pianeti nella prima decade dei pesci, del cancro, dello scorpione, ma anche del capricorno e del toro in senso positivo, cioè Saturno porta le sue energie positive che sono stabilità, costanza, determinazione, capacità di giudizio, saggezza, senso di responsabilità. È vero che la presenza di Saturno nel segno, ovvero per esempio in questo caso nei pesci, può anche portare un po' di fatica e di pesantezza, perché Saturno è il pianeta che sfronda, toglie tutto ciò che è inutile e a volte questo non ci garba molto, noi vorremmo tenerci delle cose che in realtà non sono più utili per noi. Ecco, Saturno aiuta a tagliare i rami secchi, questo anche quando è in posizione positiva e quindi soprattutto chi ha dei pianeti nella prima decade dei pesci potrebbe comunque sentire anche un po' di pesantezza, di limitazione, ma questo a maggior ragione avverrà per chi ha pianeti nella prima decade del segno opposto, quindi la Vergine, e dei due segni in quadratura, quindi Sagittario e Gemelli. Ecco, per loro questo senso di pesantezza e di necessità di limitarsi o di rinunciare a qualcosa sarà più forte, ed è quella funzione che è stata anche descritta in un film, ovvero Saturno contro, ovvero quando tutto sembra un po' impedirci di realizzare quello che desideriamo. Chi invece ha pianeti nei primi dieci gradi di Cancro, Scorpione, Toro e Capricorno, riceve gli aspetti positivi di Saturno che portano lungimiranza e anche la possibilità di costruire dei progetti, che possono essere ovviamente sentimentali, ma anche di lavoro o di studio, dei progetti di lunga durata, quindi costruzioni solide. Ecco, questa è la funzione positiva di Saturno, il senso di responsabilità, il senso del dovere, ma anche di giustizia, e la possibilità di portare avanti progetti importanti. E se questa è la novità unica di questa settimana, in realtà c'è stato uno spostamento di segno di un pianeta, Mercurio, proprio domenica scorsa, e quindi non abbiamo fatto in tempo a parlarne la settimana scorsa, ovvero Mercurio ha lasciato il segno del Toro, dove è rimasto praticamente due mesi, perché lì ha effettuato il suo moto retrogrado e quindi ha avuto veramente questa influenza più duratura, più importante del solito, perché Mercurio è un pianeta veloce, è il pianeta più vicino al Sole, quindi segue da vicino il passo del Sole, ebbene è stato due mesi in Toro, mentre normalmente rimane 20-30 giorni in un segno, e adesso si è spostato nei gemelli, che è il segno governato da Mercurio, quindi l'influenza di Mercurio in questo segno è sicuramente molto importante, molto significativa, forse più forte delle altre posizioni di Mercurio. E in questo segno rimarrà molto brevemente, perché ha ripreso questo moto diretto e molto veloce, perché sta rincorrendo il Sole, Mercurio, e quindi già il 27 giugno Mercurio entrerà nel cancro, quindi rimarrà nel segno dei gemelli solo 15 giorni. Mercurio è il pianeta della comunicazione, della mobilità, degli scambi, anche dell'intelligenza, della percezione, e quindi queste facoltà saranno sicuramente aumentate nel segno dei gemelli, e saranno particolarmente influenti per i segni d'aria, quindi gli stessi gemelli, acquario, bilancia, ma anche per leone e ariete, che quindi dovranno approfittare di queste due prossime settimane per mettere a punto delle mosse veloci, per prendere delle decisioni importanti, che magari vanno prese rapidamente. Ci sarà sicuramente un'aumentata capacità di concentrazione per questi segni. Il contrario, per il segno opposto, quindi il sagittario, e per i due segni in quadratura, cioè vergine e pesci. Ecco, questi tre segni probabilmente risentiranno un po' di mancanza di concentrazione, di aumentata tendenza alla distrazione, alle gaff, quindi attenzione sagittari, vergini e pesci, a dire le cose sbagliate nel momento sbagliato o alla persona sbagliata. Cercate di applicare un po' di autodisciplina in questo senso, cercate di non parlare a mambera, insomma. Quindi, riassumendo, per gemelli, bilancia, acquario, ariete e leone, ci sarà una maggiore facilità anche a fare amicizia, a conoscere persone nuove, a frequentare anche ambienti un po' diversi, ci sarà maggiore curiosità verso le altre persone. E attenzione invece per sagittario, vergine e pesci, a non appunto fare troppe gaff, che tra l'altro è un po' la tendenza soprattutto di sagittario e pesci. Vi anticipo anche che lunedì prossimo, quindi lunedì 19, ci sarà la luna nuova di mattina presto alle 6.37 nel segno dei gemelli, quindi il nuovo ciclo lunare inizia proprio il lunedì mattina ed è quindi il momento per mettersi degli intenti particolari per rinnovarsi e ovviamente siccome si tratta del segno dei gemelli sarà bene anche mettersi un intento, riflettere, meditare su come comunichiamo con il nostro ambiente, su che tipo di messaggio vogliamo dare agli altri, su che tipo di informazioni vogliamo si diffondano nel nostro ambiente, quindi prendersi la responsabilità di quello che diciamo, di quello che comunichiamo, delle conoscenze che vogliamo si diffondano. Bene, detto questo passiamo a vedere come sarà la settimana per ogni segno e ovviamente cominciamo come sempre dall'Ariete, il primo segno dello Zodiaco. Abbiamo visto che quindi sull'Ariete si concentrano parecchi aspetti positivi, dettati soprattutto dal movimento dei pianeti veloci, quindi Mercurio, il Sole che si trovano nei gemelli e Venere e Marte che si trovano in questo momento nel segno del leone e queste sono tutte influenze molto positive che ravvivano le giornate degli Arieti, che li spingono a essere più sociali, socievoli e anche ad avere maggiore iniziativa. Non ce ne sarebbe bisogno perché gli Arieti già di natura sono così, però queste influenze rafforzano queste naturali tendenze dell'Ariete che nel periodo recente insomma a volte sono state un po' soppresse, un po' mortificate dal movimento di alcuni pianeti e parlo soprattutto di Plutone che è stato per tanti anni in posizione antagonistica rispetto all'Ariete e che ha portato sicuramente tanti cambiamenti ai rappresentanti del segno e in questo momento Plutone ancora ha un effetto un po' diciamo deprimente su chi è nato negli ultimi due giorni del segno. Questa influenza in realtà è molto importante perché Plutone è uno dei governatori del segno dell'Ariete, quindi ha un'importanza ancora più forte forse per gli Arieti che hanno la possibilità con questo transito cosiddetto negativo, ma diciamo più che altro si tratta di un transito sfidante, ecco, hanno la possibilità di guardarsi dentro, di fare una revisione delle cose importanti che vogliono davvero. Questo è successo man mano per tutti i gradi del segno, ricordo che Plutone è in Capricorno praticamente da 15 anni, ha fatto una breve incursione nel segno dell'Acquario recentemente appunto è rientrato adesso nel segno del Capricorno e ci rimarrà ancora fino alla fine dell'anno. Ebbene Arieti che siete nati negli ultimi giorni del segno non vi spaventate perché semplicemente avete la possibilità di raggiungere voi stessi la vostra interiorità, di scoprire dei tesori, anche quando si tratta di un transito un po' impegnativo come questo. La settimana si apre poi con la luna nel vostro segno, nel segno dell'Ariete, quindi lunedì e martedì avrete le energie a mille e tutta la settimana sarà comunque piuttosto positiva perché la luna si trova o in segni positivi a voi o in segni neutri. Quindi anche da venerdì a domenica a mezzogiorno la luna in gemelli vi porta sicuramente un'ottima stabilità emotiva. Forse il malumore potrebbe fare capolino a partire dal pomeriggio di domenica ma niente di che procedete per la vostra strada. Sul toro si sono concentrati tantissime energie positive a lungo per tanti mesi. Vi ricordo che in questo momento nel toro ci sono due pianeti, Giove che è tra l'altro uno dei governatori del segno perché è esaltato in questo segno e Urano che non ha molto a che fare con il toro ma si trova in questo segno da ormai cinque anni e quindi sta veramente rivoluzionando un po' le vite dei tori perché Urano porta un'energia dinamica di trasformazione, di cambiamento. Sappiamo che al toro tutto questo non piace moltissimo, amano la loro tranquillità, le loro buone abitudini, non bisogna disturbarli troppo. Ebbene invece Urano sta facendo muovere il sedere ai nostri tori e questo è comunque una cosa positiva. Li sta riempiendo di spirito d'iniziativa. Giove amplifica la fortuna, la disposizione all'umore positivo, alla bontà d'animo che è anche del toro e alla convivialità. Giove si trova ancora nella prima decade mentre Urano è ormai entrato nella terza decade, è adesso all'inizio della terza decade. Ma sul toro si concentrano altri aspetti positivi in particolare quelli di Saturno dai pesci quindi anche qua la prima decade è sicuramente la più fortunata e poi quello di Nettuno che invece riguarda chi è nato alla fine del segno e viene investito in questa ondata di creatività e di fantasia. Anche Plutone è positivo a chi è nato negli ultimi giorni del segno e concede una grande forza d'animo. Allora quali sono i contro di questo periodo peritori? Ebbene sono i pianeti veloci, in particolare Venere e Marte che sono nel segno del leone e quindi in in contrapposizione, in quadratura. Allora Venere riguarda la vita affettiva, amorosa, il senso estetico, anche Venere è una governatrice del segno del toro e quindi visto che in questo momento si trova nella prima decade del leone ebbene potrebbe dare un po' di fastidio a chi è nato nella prima decade che pure riceve come abbiamo visto tantissime energie positive da altri pianeti ebbene questo a Venere è un po' come il bruscolino in un occhio, dà un po' fastidio, potrebbe portare qualche piccola incomprensione con le persone del cuore oppure potrebbe ingigantire, ingrandire quel senso di frustrazione che potrebbe ogni tanto ovviamente capitare a tutti quanti. Anche Marte, Marte è il pianeta dell'aggressività, della virilità e si trova ora nella seconda decade del leone e quindi può sicuramente infastidire chi è nato nella seconda decade del toro che tra l'altro in questo momento non ha particolari altri appigli perché abbiamo visto che sono la prima e la terza decade quelle più fortunate, più dinamizzate dai transiti positivi. Quindi attenzione se appartenete la seconda decade è non irritarvi troppo facilmente, potreste ingelosirvi, potreste scattare per un non nulla. La luna vi aiuta molto questa settimana, è nel vostro segno dalla serata di martedì fino a tutto giovedì e anche negli altri giorni è comunque in segni neutri e dal pomeriggio di domenica in un altro segno a voi favorevole quindi sicuramente la vostra tenuta emotiva è assicurata. I gemelli abbiamo visto ricevono questi transiti positivi del sole, di mercurio che stanno attraversando il segno e che portano sicuramente un po' di vivacità, di scambi nel corso delle giornate. Se vi ricordate Saturno e Nettuno in pesci non sono favorevoli ai gemelli e soprattutto per la prima decade Saturno potrebbe portare un po' di pesantezza, troppe responsabilità, si potrebbero sentire questi nativi della prima decade un po' appesantiti, un po' sfortunati. Ricevono comunque come abbiamo visto il supporto di mercurio e di venere che li aiuta perlomeno nelle relazioni sociali e nelle relazioni sentimentali. Marte aiuta chi appartiene alla seconda decade che riceve almeno alla fine della settimana anche il transito di mercurio e che in ogni caso i nativi della seconda decade non subiscono transiti negativi per cui per loro la settimana sarà piuttosto tranquilla e vivace. Per quanto riguarda la terza decade c'è Nettuno sempre a confondere le idee a questi nativi che per fortuna però ricevono il transito del sole che rivitalizza. Dal punto di vista emotivo la luna aiuta anche voi cari gemelli questa settimana perché si trova lunedì e martedì in un segno a voi favorevole e poi nel vostro stesso segno da venerdì a domenica a mezzogiorno e quindi avrete comunque un buon umore e sarete piuttosto tranquilli tranquilli dentro. Il cancro in questo momento non ha pianeti che stanno attraversando i suoi gradi però riceve la sua dose di effetti di movimenti di aspetti positivi in particolare dai pianeti che si trovano in questo momento nei pesci e nel toro. Quindi nei pesci ci sono Saturno e nel toro c'è Giove che entrambi lavorano a favore della prima decade di chi è nato nella prima decade e quindi con un effetto sia di amplificazione di fortuna di ottimismo sia di perseveranza di logica di capacità di rimanere coi piedi per terra. Quindi prima decade del cancro sicuramente è quella favorita. La seconda decade non riceve effetti particolari ma può rimanere abbastanza tranquilla senza magari grandi eventi. La terza decade riceve l'effetto del transito positivo di Nettuno che dà quindi una particolare creatività, fantasia e anche quello di Urano. Comincia a sentire l'effetto Urano che invece è dinamizzante, rivitalizzante, che spinge a intraprendere qualcosa, nuove iniziative, nuove avventure. È vero che c'è ancora l'opposizione di Plutone che riguarda chi è nato negli ultimi due giorni del segno. Ecco questo è un transito molto lungo, è iniziato già praticamente l'anno scorso e non è ancora finito. Abbiate pazienza se siete nati negli ultimi due giorni del cancro perché vi permette comunque di rivoluzionare la vostra vita anche se non sarà una cosa di tutto riposo. La settimana inizia con la luna in ariete quindi per voi una posizione dissonante e quindi lunedì e martedì attenzione alle decisioni che prendete, alle irritazioni, sarete particolarmente irritabili. Molto meglio la situazione dalla serata di martedì fino a tutto giovedì con la luna in un segno amico e inoltre anche dalla domenica, dal pomeriggio della domenica la luna entrerà nel vostro segno quindi vi sentirete molto più centrati. Il leone sta vivendo un momento idilliaco, in questo momento ci sono venere e marte nel segno che sicuramente stanno veramente tirando su l'umore dei leoni che in questo momento possono flirtare, possono rinsaldare le loro relazioni affettive, possono buttarsi in qualche impresa un po' più impegnativa. I leoni non hanno avuto grandi risorse energetiche negli ultimi tempi, sicuramente le cose stanno andando un po' meglio ora, ora che Saturno da qualche mese è fuori dall'opposizione e hanno ancora, subiscono ancora la quadratura di Giove e Urano quindi Giove cosa potrebbe combinare soprattutto a chi è nato nella prima decada e a esagerare un po', a fare un po' troppo gli spacconi, a esagerare in atteggiamenti o troppe spese o magari mangiare troppo o vantarsi troppo di qualcosa, ecco fate attenzione a questi atteggiamenti, Venere vi aiuta a ristabilire un po' di equilibrio e anche Urano invece rompe un po' le scatole che è nato adesso nella terza decade portando qualche intopo, fate attenzione alle novità che sembrano positive invece poi si rivelano non esserlo, quindi attenzione agli inciampi cari leoni, come vi dicevo però Venere e Marte vi ringalluzziscono e vi aiutano a riprendere un po' il controllo della situazione, inoltre anche il passaggio del sole di Mercurio nei gemelli vi aiuta a tornare a essere al top come comunicatori, voi siete dei leader e quindi riuscirete sicuramente in questo periodo a portare agli altri dalla vostra parte, settimana ottima all'inizio soprattutto lunedì e martedì con la luna in un segno amico, attenzione invece dalla sera del martedì fino a tutto giovedì con la luna in toro potreste avere proprio la luna storta, vi riprendete del tutto da venerdì a domenica. Anche la Vergine ha la sua parte di gioie e dolori, allora le gioie, parliamo prima delle gioie, sono il transito positivo di Giove e Urano e anche per la Vergine si tratta della prima e della terza decade soprattutto, quelle che sono più influenzate da questo transito positivo, quindi Giove porta espansione, fortuna, capacità di adattamento, buone situazioni, ci si può imbattere per esempio nella persona giusta al momento giusto. Urano porta spirito di iniziativa, porta voglia di fare, porta quella ventata di dinamismo nelle proprie attività, nelle proprie decisioni. Che cosa sono i contro invece? Un altro pro è Plutone in buon aspetto che è nato negli ultimi giorni del segno, quindi con diciamo buona forza di volontà e capacità di vedere le situazioni come sono e di credere in se stessi e nelle proprie potenzialità. Allora i contro, i contro sono Saturno opposto alla prima decade, Nettuno opposto alla terza decade e anche la quadratura di Mercurio e del Sole e questo riguarda la seconda decade e la terza. Quindi cosa porta tutto questo? Allora la prima decade risente un po' di aspetti sia positivi che negativi, quindi avete fortuna dalla vostra parte, fate però attenzione a non sottovalutarvi, a non credere in voi stessi, invece dovete crederci. Per la seconda decade ci sarà semplicemente un po' di confusione, incapacità di concentrarsi, mentre la terza decade decade, sebbene, soprattutto che è nato all'inizio della terza decade, sebbene abbia questa spinta verso il fare e la trasformazione potrebbe sentirsi un po' confusa e a volte un po' stanca fisicamente. Le giornate migliori di questa settimana sono quelle che vanno dalla serata del martedì a tutto il giovedì e poi anche dalla domenica pomeriggio in poi, mentre attenzione alle gaff o a un giudizio non lucido, nelle giornate tra venerdì e domenica mattina. La bilancia è in un momento diciamo di tranquillità e di calma rispetto perlomeno ai mesi scorsi o all'anno scorso dove la situazione era molto più pesante, ebbene adesso c'è stata una rivitalizzazione importante e anche con mercurio e il sole positivi, quindi per tutta la settimana, continua questa rivitalizzazione sia fisica che mentale, quindi la vostra capacità di proporre le vostre idee e di coinvolgere gli altri sarà sicuramente amplificata. Chi è nato negli ultimi due giorni del segno, ebbene tornerà per loro quel senso di pesantezza e di sfiducia che hanno provato a lungo, soprattutto l'anno scorso, e ancora un po' potrebbe tornare, ma anche per voi è un'occasione di scoprire i tesori nascosti dentro di voi. Anche venere e marte per voi sono positivi, quindi vita sociale, vita sentimentale sicuramente ne risentono positivamente. E dal punto di vista della luna, ebbene lunedì e martedì potrebbero non essere le giornate migliori, quindi cercate di limitare lo spreco delle vostre energie emotive e fisiche, sicuramente le giornate migliori dove concentrare le vostre attività più importanti sono quelle di venerdì, sabato e domenica mattina. Lo scorpione, anche per lo scorpione ci sono gioie e dolori. Allora vediamo le gioie anche qua, che poi si dividono quasi equamente con i dolori, ovvero per la prima decade c'è il buon aspetto di Saturno che porta stabilità, che porta la possibilità di costruire o di rimettere insieme in piedi le cose importanti che magari avete dovuto distruggere negli ultimi anni. Adesso potete ricostruire. Attenzione agli eccessi di fortuna, cosiddetti eccessi di fortuna che potrebbero rivelarsi non esserlo, perché giove in opposizione appunto vi porta a non avere una capacità di giudizio lucida e quindi potreste non vedere degli inghippi. Attenzione, anche Venere vi porta qualche piccola frustrazione emotiva. Per la seconda decade l'unico rischio viene da Marte che è dissonante e quindi potrebbe scatenare la vostra reazione emotiva eccessiva o anche la gelosia. La terza decade gode del favore di Nettuno che porta intuito e particolare genialità, quindi de sicuramente a mille. Attenzione però all'opposizione di Urano che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote e quindi qualche diciamo incidente di percorso. La cautela è sempre d'obbligo. La luna per voi questa settimana non è molto positiva per cui attenzione alle emotività troppo ballerina soprattutto mercoledì giovedì. La situazione si ristabilisce dalla domenica, dal pomeriggio di domenica. Veniamo al sagittario. Anche il sagittario ha la sua dose di fastidi e sono soprattutto il sole e mercurio opposti e Saturno e Nettuno quadrati, quindi dissonanti. Ebbene questo riguarda quindi prima, seconda e terza decade e ogni decade ha la sua dose di guai e nel senso che Saturno porta sicuramente pesantezza e forse delle responsabilità non desiderate, mentre Nettuno continua a confondere le idee a non dare direzione chiara e precisa a chi appartiene alla terza decade, mercurio provoca distrazione in chi appartiene alla seconda decade. Ebbene che cosa, chi sono i pianeti che vengono in soccorso del sagittario, sono Venere e Marte, quindi Venere alla prima decade, quindi dà quel senso di apertura, di capacità di andare incontro agli altri che vi aiuterà a superare ogni problema e Marte che dà quella carica, quell'energia, quell'audacia che vi serve in questo momento per buttarvi nelle situazioni, nelle iniziative che volete portare avanti. Ottime le giornate di lunedì e martedì, quindi in quelle giornate sicuramente potete suonare la carica e avere insomma questo senso di riscossa. Mentre dal venerdì alla domenica mattina, attenzione, la luna sarà nel segno opposto e quindi il vostro umore e anche la vostra energia, sia fisica che emotiva, saranno un po' sotto i piedi. Non impegnatevi in attività troppo importanti. Il Capricorno in questo momento non ha rivali perché non ha pianeti che stiano infastidendo in alcun modo i nativi del segno, quindi per il Capricorno abbiamo sia abbondanza, fortuna, questo dato da Giove, dal buon aspetto di Giove, sia possibilità di costruire qualcosa di solido, questo dato da Saturno, sia la fantasia che tocca a chi appartiene all'ultima decade e il dinamismo dato da Urano sempre la terza decade. Quindi che dire dei Capricorni, vanno alla grande, quindi beati loro. L'unico problema potrebbe essere la luna un po' storta lunedì e martedì, per il resto settimana ottima. Non è così per gli acquari che hanno l'opposizione, subiscono l'opposizione di Marte e Venere, quindi energia un po' ballerina e soprattutto chi appartiene alla seconda decade potrebbe avere qualche eccesso di rabbia e di frustrazione, mentre chi appartiene alla prima decade potrebbe non sempre riuscire a comunicare nel modo migliore con la persona amata. Però aiuta Mercurio, aiuta il Sole, che sono in un segno amico, quindi comunque riuscirete a recuperare. Anche per gli acquari attenzione agli eccessi dovuti alla dissonanza di Giove. Le giornate migliori sono lunedì e martedì e anche quelle che vanno da venerdì alla domenica. E per i pesci, che è un altro di quei segni piuttosto fortunati, c'è solo un piccolo fastidio che potrebbe derivare da Mercurio dissonante e anche dal Sole, quindi anche per voi dal punto di vista mentale e fisico cercate di non esaurirvi, di non esaurire le vostre energie e appunto, come dicevo a inizio della nostra puntata di oggi, non parlate a sproposito. In ogni caso avete Giove dalla vostra parte, Urano, Saturno, Nettuno, quindi potete tranquillamente navigare per la vostra rotta. Ottime le giornate di martedì e giovedì e anche della pomeriggio della domenica. Attenzione, quando la luna è in gemelli, quindi dal venerdì alla domenica mattina potreste avere veramente un po' di malumore e un po' di energia sotto i piedi. E dopo il nostro buongiorno con le stelle, continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che, se volete un consulto astrologico, mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info-monicaamarillis.com Grazie a tutti!